Allora, torniamo ai numeri del Senato con il nostro Carugati. Prato, mi è venuto il dubbio che Carugati e Geremica hanno lo stesso parrucchiere? Non ne sono sicuro. Prego, Carugati, vai avanti. Allora, e poi noi dicevamo, no, Carlo Martelli è 5 Stelle ora nel misto, no, Paragone, 5 Stelle, importante, no. Ed è il capofila, diciamo, dei 5 Stelle che non si sono ancora manifestati ma che sono un po' dubbiosi. Infatti, passiamo appunto a questo grande gruppo dei dubbiosi, 16, che potrebbero portare molto in alto la fiducia se tutti votassero sì. Vediamo, Ricchetti del PD, Mario Michele Gianarrusso, 5 Stelle, molto arrabbiato con la De Micheli sul tema, diciamo, delle infrastrutture, quindi in particolare delle questioni delle autostrade. De Falco e De Bonis, che ancora non si sono pronunciati, De Falco ha detto se voterò sarà un atto di fede, il mio è non di fiducia. Autonomie e eletti all'estero sono altri sei, il Senato di Avita altri sei. Con Mario Monti, Renzo Piano e Elena Cattaneo, che pochi minuti fa ha detto che voterà invece la fiducia. Quindi siamo già a 166. Con De Falco, 167. Infatti, vediamo la schermata penultima che dice 181. È il numero massimo di sì che potrebbero arrivare se tutti i dubbiosi dovessero alla fine votarlo. E sarebbe un numero molto alto, perché se vediamo i precedenti delle scorse fiducia, vediamo che Conte 1 era 171, Gentiloni 169, Renzi uguale, Monti 281 al Senato e 556 alla Camera. Record storico di voti di fiducia. Ricordiamo che c'erano PD e PD all'Istero. Prodi è il minimo a cui potrebbe arrivare Conte, 165 al Senato. La perdonanza sexy, quella per un voto. Ci ricordiamo come fu quella navigazione dal 2006 al 2008 e ci ricordiamo anche di come poi andò a finire, quando appunto proprio al Senato, nel gennaio del 2008, Prodi cadde con la sfiducia. Grazie Carugati.